Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 18 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, molti di voi stanno attraversando una fase di recupero, il percorso da compiere è ancora lungo perché tutti i problemi della vita non si risolvono in un giorno. Questo è un periodo dove non ci sono grandi complicazioni, ma il rilancio è sempre difficile dopo aver trascorso un biennio pesante per quanto concerne lavoro e denaro. Amore? Periodo tranquillo, forse troppo per i vostri gusti. Cielo di ottobre sereno con Saturno benefico in pesci a segnare punte di entusiasmo e di gioia di vivere, specie se siete nati in marzo. Giornata relativamente tranquilla, a patto che teniate fede ai vostri impegni e diate l'impressione al vostro capo di seguire le sue direttive, anche se sotto sotto avete la testa tra le nuvole. A confermarlo Nettuno in dodicesima casa, quella dove si abbozzano i grandi capolavori, a sua volta intrigono alla Luna nel segno misterioso e profondo dello scorpione. Dunque lavorio interno, ispirazioni, ricerca personale, ben al di fuori del consueto planning aziendale, stigmatizzato da Plutone allo Zenit in quadratura. Allegra la serata col passaggio lunare in segno di fuoco, attenti però a non stancarvi troppo, finireste per faticarvi eccessivamente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 5, benessere, 6. Toro. Cari toro, la Luna opposta in questo inizio di settimana può causare un piccolo malessere stagionale, d'altronde è risaputo che soffrite di sbalzi di temperatura o di umore. Vi irritate quando avete a che fare con certe persone. Pensate a riparare il vostro fisico dalle intemperie della vita. Venere, Giove, Urano e Plutone sono tutti splendidi e vi aiutano a fronteggiare inconvenze varie, situazioni rimaste in sospeso, a sciogliere dubbi in famiglia e nel campo delle amicizie. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 8, benessere, 5. Gemelli. Cari gemelli, il lavoro prende molto tempo e l'amore necessita di maggiori garanzie. Adesso ci sono nuove aperture e si potrebbe sistemare una questione professionale, addirittura rilanciarla. Saturno è dissonante e parla di ritardi, di fatica nel portare a termine le cose. Combinazione dei transit in cui si alternano posizioni che sembrano neutralizzarsi a vicenda, ma mostrando un risultato per finire buono e senz'altro soddisfacente per voi. Giornata tutta incentrata sul lavoro, come piace alla luna in sesta casa, che tuttavia estende le sue competenze anche sulla salute. E pensare che su questi fronti le vostre idee sono tutt'altro che chiare, fa testo Nettuno discontinuo allo Zenit in quadratura, mentre Urano in dodicesima casa oggi vi espone al rischio di cambiamenti repentini e spiacevoli imprevisti. Unico punto fermo i vostri investimenti, se avete messo a punto titoli di stato l'instabilità delle borse vi dà ragione. Non idilliaca la serata col passaggio lunare in Sagittario in conflitto con Saturno oltre che col vostro segno, problemi di lavoro o di famiglia vi mettono in urto col partner già piuttosto diffidente nei vostri confronti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Cancro. Cari cancro, meno incertezze in amore, tutti coloro che vogliono risanare una ferita possono agire. In questo momento siete troppo presi dal lavoro, da grandi responsabilità e non è facile dare spazio a nuove storie. Ma almeno provateci. Vi servirete oggi delle vostre qualità migliori, l'intuizione, l'estro, la fantasia, la voglia di sorprendere. E la previsione astrale sarà variegata, in cui ad alcune influenze indubbiamente positive se ne associano altre moderatamente bloccanti. Il risultato sarà che avrete la sensazione di maneggiare armi spuntate. L'un amicione in Scorpione, segno d'acqua intrigono al vostro e al vostro amico Nettuno, che dai pesci vi ispira opere d'arte e vi fa sognare il prossimo viaggio, non da soli, insieme al partner, ai figli o a un amico speciale, quello che, impersonato da Orano in se stile, condivide con voi desideri e avventure. Non così facile come sembra, però, lo scoglio è il potere magnetico di Plutone che si mette di traverso, nei panni di un socio, un interlocutore, una persona potente e tuttavia invidiosa delle vostre belle qualità. Fate finta di nulla e scavalcatelo, con un breve volo o una nuotata in muta da sub, industriatevi semplicemente per passargli al di sotto o al di sopra, sbiancherà. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari leone, volete dare agli altri un'immagine vincente? Tuttavia, già da domenica ci sono state perplessità, persone che vi hanno fatto innervosire. Se qualcosa non va per il verso giusto non dovete diventare pessimisti. I rapporti sentimentali nati nel corso degli ultimi mesi sono intriganti, ma Venere non è più nel segno. Attenzione. Palcoscenico dei transiti abbastanza positivo, dato che troviamo Venere e il sole in bella posizione ad Harvey Manforte, mentre la Luna si trova nel nemico amatissimo dello Scorpione, fino alle prime luci della sera e vi rende più irrequieti e meno lucidi del solito. Per superare la vostra giornata no dovete attendere stasera, quando la Luna passerà nel segno amico del Sagittario, restituendovi vigore e fiducia. Intanto però la mattina e il pomeriggio dovete sfangarveli da soli, presi della morsa della Luna in Scorpione opposta a Urano, entrambi in quadratura al vostro segno, mentre Plutone in sesta casa, non fa che ripetervi all'orecchio quell'odioso ritornello lavora, lavora lavora. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 4, finanze, 7, benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata interessante. Avete in mente un certo rigore, agite con piani prestabiliti e svolgete le attività con determinazione e pignoleria. Per quanto riguarda l'amore, porte aperte ai nuovi incontri e all'ufficializzazione di storie importanti. Marte e Mercurio si ritrovano nei segni vostri fidati alleati dello Scorpione della bilancia e vi assicurano una giornata che parte alla grande, specie se siete nati nella Vergine a prima e terza decade. Ottime appaiono le indicazioni nel campo della salute e della forma fisica. A parte il solito Nettuno, ormai storia vecchia, per tutto il giorno ve la passate benone, i guai incominciano casomai la sera quando la Luna, uscita dal segno amico dello Scorpione, raggiunge il Sagittario, confermando la propria ostilità e quella di Saturno nei vostri confronti. Non pensateci, la vita va vissuta ora per ora, minuto per minuto, dunque occupatevi della bianca signora amichevole in Scorpione e in posizione armonica con Plutone, Urano e Giove, tutti pianeti forti ai quali siete legati da trigoni corroboranti, fautori di grosse realizzazioni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Bilancia. Cari bilancia, i nuovi progetti hanno bisogno di essere rodati per una loro buona gestione. Alcuni hanno cambiato riferimenti, chi ha investito in nuove imprese adesso capisce di aver compiuto un passo importante ma anche impegnativo o rischioso. Marte nel segno ha creato molti problemi fisici, momenti di stanchezza, delusione, ma per fortuna dal 12 non è più così pesante da sopportare. Il Sole e Mercurio transitano felicemente nel vostro segno. E la situazione astrale è discretamente positiva per voi. Luna spendacciona, almeno fino a tardi pomeriggio, la sera, quando passerà in sagittario, si farà meno materica ma più vitaiola, propensa al contatto con gli altri, ad assistere a uno spettacolo, un corso, un incontro sportivo. Sempre che la giornata pesante sul lavoro, come lasciano intendere Saturno e Nettuno in sesta casa, non vi stenda appena finita la cena, soprattutto se state covando un raffreddore o si annunciano i primi doloretti autunnali da umidità. Sono i ricordi a tenere la scena, il passato vi torna in mente come un'onda d'urto, alimentando le vostre malinconie, forza, reagite, ordini del Sole e di Marti veritieri e combattivi nel segno, e al presente, al qui ed ora che dovete puntare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Scorpione. Cari Scorpione, state risentendo di uno stress eccessivo. In particolare se avete cambiato troppe cose di recente, chiuso collaborazioni, affrontato problemi in famiglia. Giove in opposizione da diversi mesi sta cambiando le regole del gioco. Oggi solo Giove e Urano vi tengono il broncio con qualche nervosismo passeggero, ma solo se appartenete alla scorpionica seconda e terza decade. Molti pianeti sono a vostro favore in ogni caso, tra cui Venere, Marte e il potente Saturno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, la vostra energia sembra essere in un punto alto e le vostre abilità sociali stanno brillando. Nonostante questo, la carriera potrebbe dare qualche problemino. Le finanze sono solide ma c'è qualcosa che vi turba sul piano emotivo. Serve equilibrio. Il sole nel segno amico della bilancia vi rende razionali e propositivi in ambito sociale. Cielo astrale che segue la scia della giornata precedente e si presenta in linea di massima positivo o almeno non stressante. Finalmente stasera la luna approderà a casa vostra, ma per tutto il giorno ve la ritroverete imbronciata in dicesima casa, in aperto conflitto con Urano, causa di imprevisti e forti tensioni in ambienti di lavoro. Nervosismo per varie ragioni, problemi familiari, malesseri fisici, magari con Nettuno e Saturno in quadratura avete un raffreddore in cova o avvertite i primi doloretti autunnali da umidità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 5. Capricorno. Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore notere che la vostra energia e il vostro equilibrio interno sono incredibilmente buoni. Sarà un po' un tira e molla in ambito amoroso, ma niente di cui preoccuparsi troppo. Transiti abbastanza positivi in questa giornata di metà ottobre, solo lievemente disturbati dalla presenza del team sole mercurio, che è contrario nel segno nemico amatissimo della bilancia e che vi può rendere a tratti nervosi, specie in famiglia. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Acquario, Cari Acquario, le stelle sussurrano che la vostra adattabilità è al massimo. Non sarà un problema affrontare le situazioni in modo diverso. In amore potrebbe esserci qualche intoppo, ma nulla di irrisolvibile. Tenete d'occhio le finanze. Oggi Mercurio nell'amica bilancia è la luce di conoscenza che vi rischiara quel che nei giorni scorsi era apparso incerto o oscuro. Sappiate sfruttare le deduzioni che provengono dalla vostra intelligenza fertile e mai sazia di apprendere. Giornata no che più no non si può, almeno fino a sera quando il passaggio della Bianca Signora in Sagittario ristabilirà una parvenza di equilibrio. Intanto per tutto il giorno ve la ritroverete in Scorpione allo Zenit, in aperto conflitto col vostro astro guida Orano e con Giove che l'accompagna, mentre gli astri amici suoi a voi non dicono nulla, Plutone in dodicesima casa vi appesantisce immalinconendovi, mentre Saturno e Nettuno nel settore relativo al denaro vi fanno sborsare ancora soldi, proprio quando nel salvadanaio ce n'è sempre di meno. Scornati ma in fondo sempre ottimisti, tenete duro, domani è un altro giorno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 4, finanze, 5, benessere, 4. Pesci. Cari pesci, non è il momento migliore per l'amore e le finanze, ma non preoccupatevi troppo. La vostra energia sembra essere piuttosto alta e vi aiuterà a superare gli ostacoli. Possibile rallentamento sul lavoro. Con la luna scorpione molto positiva per il vostro segno, la forma fisica è in ottimo stato e vi consente di affrontare ogni incombenza quotidiana. E la configurazione planetaria è caratterizzata da aspetti planetari che pian pianino, da neutri, si stanno trasformando in positivi. Bella giornata per voi, con la luna acquatica in scorpione intrigono al vostro segno, già abitato da Saturno filosofico e Nettuno artista e creativo, estremamente fantasioso. I due, insomma, si compensano l'uno con l'altro, razionalità e creatività formano un tutt'uno inimitabile, tanto più che a darvi manforte scendono in campo il magnetico Plutone e Urano Geniale, entrambi in se stile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie a tutti.